bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Riki Gameplay e oggi siamo tornati a Granny ragazzi oggi penso che oggi hanno aggiornato Granny e ovviamente è spoiler quindi se volete non guardate questo video quindi hanno aggiornato molto Granny hanno messo una nuova difficoltà e quindi noi oggi proveremo a sfidare di nuovo nostra nonna quindi ci proviamo subito allora ragazzi mi ero dimenticato i comandi ma ora me li sono ricordati magicamente allora cosa hanno cambiato? allora una parte del fucile va bene ho preso definitivamente i comandi raga intanto qui c'è il martello aspettate allora qui c'è cos'è? un libro? ragazzi che fa il libro? scrivetelo nei commenti perché veramente mi serve tantissimo se non lo capisco da solo una ca... la batteria della macchina mi ero scordato che raga si può fuggire in un altro modo quindi si può fuggire con la macchina quindi mettiamo subito questo generatore per la batteria della macchina nella macchina appunto madonna eccola la ragazzi pronta a ucciderci e vabbè raga ci ha preso ma probabilmente non lo finiremo oggi penso cioè se troviamo tutte le cose per fuggire con la macchina allora ragazzi quindi avevo letto ragazzi anche che la nonna aveva un animaletto ma dico un animaletto tra parentesi perché io penso che come animaletto abbia qualcosa di non lo so per una nonna che cosa deve avere? un cagnolino? un preciso appunto brava ragazzi ragazzi hanno messo un nuovo a special key e sopra che c'è? forse è proprio l'animaletto ma forse uh è lì che c'è? aspetta io so dove è il martello quindi ma da dietro la porta mi ha preso ma dai e ora come faccio a raggiungere la special key? intanto si vabbè ragazzi granny sta diventando un casino ora ci rimetteremo un anno a ricompletarlo un anno vi ho perso un altro giorno ragazzi mato mi sono scordato tutti i comandi ora come faccio? e ragazzi qui penso che ci sia un coso per riparare la macchina ma aspettate aspettate che mi nascondo ok raga ora vi faccio il riassunto di quello che ho preso finalmente nel microonde c'era la special key io ora l'ho presa sono qui che mi sta rincorrendo la nonna forse l'ho mai visto questa è la special key questa io lo metto qui e va speriamo che lei non venga ci faccia un jumpscare della madonna però sono i nostri ragazzi bene lei non viene quindi siamo tranquilli allora qui che c'è aspetta raga raga che schifo è raga raga che schifo è quello no 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 ti prego ti prego schifo che schifo che schifo no vattene vattene raga guardate che schifo guardate che schifo ah che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo raga raga che schifo allora prima di tutto quello era il suo animaletto un ragno schifoso che era una tarantola che schifo e ora noi che dovremmo fare mo che schifo raga che schifo questo che cos'è cos'è sto schifo questo che cos'è engine part per la macchina ok corri 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 e qui c'è una parte dello shotgun I need a wench io l'ho messa però non so se va aspetta qui c'è la weapon key E mi serve la weapon key Aspetta un secondo Facciamo di nuovo il trucchetto Tira Ok No aperta deve stare Ok non ci nascondiamo qua Ok sta riuscendo raga sta riuscendo No Si è fermata Dai Ragazzi Si è fermata Che schifo E lì c'è pure una cosa A padlock Che padlock Madonna Raga è riuscita vai Vai Oh no L'ho bloccata Muori Crepa 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 Muori Muore Prendi questo Schifosa Che raga è morta Per un minuto Che schifo No 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 Vattene 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 We weapon key We weapon key Corri 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 Qui mi sembra che non si è cambiato Aspetta che cosa Gasoli What Gasoline Ah per la benzina Porca miseria No Ragazzi Ragazzi No Ci mancava poco La benzina No Non ci credo mai Eh vabbè ragazzi E' andata così E' andata così Eh vabbè ragazzi Già abbiamo provato Bene ragazzi Questo video Finisce qui Con gli infarti E il terrore Che mi sono preso Scrivetemi nei commenti Come risolvere La situazione Perché ora Ci sono davvero Un casino di cose E niente Mettete like Al video Se non siete iscritti Iscrivetevi E ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao